Tre minorenni incensurati di origine magrebina, appartenenti al gruppo che gestiva la pagina Instagram Cremona Dissing, sono stati destinatari di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità. Dalla fine del 2018 i giovani si erano resi responsabili di numerose risse, aggressioni, minacce, rapine e distorsioni in danno di loro coetanei, con successiva autocelebrazione di quanto fatto sui social utilizzati in modo distorto. Le indagini della mobile hanno preso il via da alcune aggressioni avvenute a Cremona il 12 giugno, quando si è svolta una festa aperta al pubblico presso la Canottieri Bissolati, durante la quale un gruppo di sette ragazzi commise una rapina, ne tentò un'altra e aggredì per futili motivi alcuni partecipanti alla serata. Identificati dunque grazie all'attività investigativa tre minorenni autori di una rapina di 20 euro e di una tentata rapina di un portafogli. Abbiamo eseguito la misura del collocamento in comunità a carico di tre minori di origine magrebina, tutti i tre membri della famigerata ormai gang del Cremona Dissin. Sostanzialmente quella sera loro si sono resi responsabili in particolare di una rapina di 20 euro e di una tentata rapina di un portafogli, sempre ai danni di loro coetanei. La serata poi si è sviluppata anche in altra maniera, quindi con aggressioni e minacce di contorno che hanno caratterizzato un po' l'inizio, l'intermezzo e la fine della serata. Infatti cinque in tutto sono stati gli episodi sotto la lente? Sono cinque gli episodi, siamo riusciti a ricostruire tutta la dinamica, c'è stata un'aggressione prima dell'inizio della festa per futili motivi, quindi un ragazzo colpito con degli schiaffi senza alcun motivo. Nel corso della serata c'è stata appunto la commissione della rapina e della tentata rapina, più un'altra aggressione sempre per futili motivi ad un ragazzo che poi ha riportato lesioni per due giorni. Alla fine della festa poi altri due ragazzi sono stati rincorsi da membri del gruppo Lungovia Lepo, minacciati di essere ammazzati di botte. Quindi sette in tutto le persone coinvolte? Sette le persone coinvolte e appunto tre i minori collocati in comunità. Grazie.